Alla cittadella dello sport il Sambuceto cerca punti pesantissimi per tirarsi fuori dalla affollata zona play-out. Affronta il Cupello che non perde dal 13 febbraio e che può guardare la classifica con un pizzico di tranquillità in più. Parte fortissimo il Sambuceto che fa vedere da subito la voglia dei tre punti e passa in vantaggio al sesto minuto con Ranieri che da bomber vero riceve, stoppa, difende e battesinato. Passano appena tre minuti e i padroni di casa raddoppiano. Gran lavoro ancora di Ranieri che si gira bene e c'entra il palo. Barrow è appostato lì e in taping non può sbagliare. Istancabile la formazione di mister Ron ci vuole immediatamente chiudere i giochi. Lancio di Bruni con il contagiri per Ranieri che si invola verso Sinato. L'estremo ospite però si oppone con i piedi. È solo il preludio al gol del Tris. Marfisi va direttamente in verticale per Barrow. Carpione il pallone e battesinato per la doppietta. Al ventunesimo Ranieri sfrutta una situazione in aria scatenata dall'errore in uscita di Sinato e appoggia in rete per il poker viola. Doppietta anche per lui. Prova ad affacciarsi in avanti il cupello con questa conclusione dal limite di Troiano che non spaventa un inoperoso Dedeo. Sul finire di primo tempo Marfisi batte una punizione tese in aria. La sfera arriva nella zona di Ranieri che non trova la tripletta. Con le immagini di Manu il Centurame passiamo alla ripresa. Che si apre con il penalti concesso dal signor Ferdiando Carluccio dell'Aquila in favore dei padroni di casa per un tocco con il braccio in barriera. Dal dischetto Marfisi non sbaglia. Palla da una parte, portiere dall'altra. Non si accontenta il Sambuceto che trova la respinta con i piedi di Sinato dopo un ottimo scambio Bruni-Marfisi-Ranieri. Dall'altra parte il cupello va a caccia del gol della bandiera e lo sfiora prima con un tiro a giro di Zinni che lambisce il palo alla destra di Dedeo e poi con un colpo di testa di Felice che si stampa sul montante alto e viene rispedito al mittente. Entra Miccichè e si rende subito protagonista con una prodezza da calcio di punizione che porta il risultato sul 6-0. Dopo appena un giro di lancette per il capocannoniere Viola arriva la gioia della doppietta. Sfruttò il lancio dalle retrovie e battesinato per il 7-0. Grande iniezione di fiducia dunque per il Sambuceto atteso dal recupero salvezza contro il penne di mercoledì. Sconfitta pesante invece per il cupello che dovrà riscattarsi tra le mura amiche contro l'alba triatica. Sì è stata una buona gara anche se devo fare i complimenti al cupello per il lavoro che sta facendo il mister Carlucci. Oggi erano rimaneggiati, noi eravamo determinati, siamo partiti forti. Sta uscendo un po' il lavoro che abbiamo fatto, chiaramente abbiamo fatto tanti pareggi ma dove abbiamo fatto delle grandi gare. Oggi se questi golli ce li tenevamo un po' per le altre partite, potevamo stare in una situazione di classifica diversa, però dai siamo contenti. L'atteggiamento da stamattina mi era accorto che qualcosa non andava, non può essere una scusante che ci mancavano diversi elementi perché chi ha giocato doveva dare il massimo. È una giornata storta, io mi prendo la responsabilità perché sono l'allenatore ma già da stasera dobbiamo cambiare registro perché per la salvezza servono ancora altri punti e noi dobbiamo riniziare il nostro cammino. Oggi prendiamolo come un incidente di percorso. Sono arrabbiato perché non si possono approcciare le partite così. Al quattordicesimo del primo tempo era 3-0 e non possiamo concedere questo campo e spazio a questi avversari perché poi alla fine ce li siamo fatti noi i gol.